Commentare purtroppo una serata non felice per te, intanto raccontaci come è calcolato, perché hai calcolato male i tempi lì su Canute all'inizio, che cosa è successo? Penso sia un errore di valutazione alla traiettoria, ho visto partire il lancio, normalmente a me piace aiutare la difesa da dietro cercando di anticipare anche le giocatte di avversari, ho valutato male e abbiamo subito il gol. Nel complesso il Pescara meritava di più questa sera, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, mi è piaciuto molto lo spirito della squadra, nonostante lo svantaggio iniziale, abbiamo creato diverse occasioni da gol e meritavamo sicuro il pareggio almeno. Secondo tempo sei stato sostanzialmente spettatore della partita, di una squadra che si è rivista come quella dei primi mesi? Sì, abbiamo creato diverse occasioni, abbiamo recuperato la palla anche nella loro metà campo, eravamo sul pezzo, sugli appoggi, sulle marcature preventive, quindi meritavamo di pareggiare la partita.